Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. A partire da questa mattina è stato interrotto il transito sul ponte dell'Ancaranese. La misura resterà in vigore per un paio di giorni, fino alla conclusione dei lavori di manutenzione. Qualche disagio per gli automobilisti costretti alle deviazioni. Sul posto anche il consigliere provinciale di Ascoli, con delega la viabilità, Daniele Tonelli. Sul ponte dell'Ancaranese la provincia di Ascoli ha nei mesi scorsi effettuato delle prove di stabilità per quello che riguarda l'altro impalcato in muratura, che permette il transito delle dovetture verso l'ingresso della superstrada Ascoli Mare, con dei risultati confortanti. Sarà quindi necessario una valutazione per quello che riguarda il complesso della transitabilità di due ponti, però possiamo dire che ci sono dei risultati che ci permettono di tenere aperto questo ponte per la transitabilità dei veicoli leggeri. Dopodiché le modalità di utilizzo saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nei momenti in cui ci sarà la ristrutturazione del ponte in muratura e la messa in sicurezza. I lavori in concerto con la provincia di Teramo riguarderanno la parte superiore e la parte della sistemazione dei New Jersey per permettere una transitabilità migliore del ponte oggi in oggetto della chiusura. Tonelli richiama la responsabilità alle regioni Marche e Abruzzo. Siamo ancora in attesa delle determinazioni della regione Marche e della regione Abruzzo per determinare la strategicità di questo ponte. Mentre in Abruzzo il collegamento tra l'A24 e la Mezzina e la superstrada Ascoli Mare va avanti speditamente con l'impegno di 120 milioni di euro da parte di Anas, noi ancora ci troviamo con un punto nodale come la transitabilità di questo ponte che è ancora un grosso punto interrogativo. Aspettiamo che le due regioni ci indichino con i fatti che questo ponte è strategico. Fino ad oggi abbiamo avuto tante promesse ma non abbiamo avuto ancora un finanziamento né tantomeno un atto che ci indichi che la stabilità, la percorribilità di questo che è il ponte più transitato di tutta la provincia di Ascoli sia di interesse regionale.